Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di PsegoGiccio Questa oggi ci troviamo qui con un nuovo video su Rainbow Six Siege Utilizziamo subito il muto se non se lo prende nessuno Perché io vorrei prendere smoke teoricamente Vediamo un po' Gli ultimi secondi poi scelgo il muto se nessuno se lo prende Perché ci serve per bloccare i droni avversari all'inizio Questi due mi sa che non... Merda, 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 merda Ho sbagliato, ho sbagliato Eh va bene, ho sbagliato, pazienza Questo qui è rimasto senza operatore con la recluta purtroppo Io ho perso troppo tempo però va bene Smoke è anche molto ma molto forte devo dire Allora Qui era la mappa dove ho giocato un minuto l'altra volta Per i fatti miei ovviamente ho fatto un video E ho fatto diciamo una strage che ho fuggito la bomba Perché è un nemice che non ho trovato la bomba Quindi io direi di stare sopra Che è la cosa migliore di altri Attenzione Ok Questo l'abbiamo fottuto Di qui potrebbero entrare L'obiettivo mio è là Va bene Direi di stare bene benissimo qui Fase d'azione Ci mettiamo subito Con le telecamere Ok di qua non ci dovrebbe essere nessuno Eccolo Eccolo li vedo tutti Sono tutti la ragazzi Ok Sono praticamente qui raga Attenzione Ne ho visto uno E' morto uno Quindi un altro Spam ragazzi Devo ricaricare velocissimamente Purtroppo Pochissima vita Avevo sentito anche un montagna Se non erro Ok torno indietro Ok Ne rimane uno Ecco Quale scale per scendere No Mi ha fregato L'ho trovato là davanti Purtroppo Però va bene così Va bene così Praticamente mi aspettava Lei Guardate lì Io col fuggile a pompa Non penso di avere Di avere Che avevo Molta Molte speranze 3 kill Una morte Ragazzi Abbiamo vinto il primo round Non è niente male Non è niente male davvero Ho fatto una strage Però va bene Ma siccome la bomba Adesso prendo fuso Come Caspita si dice Ok Ok Eh Sledge ce l'ha lui Quindi adesso non lo prendo più Io ovviamente Ce l'ha lui Allora 14 secondi All'inizio del secondo round Allora abbiamo il blitz Sledge Termite Ash Non siamo messi male Diciamo come team Eh ragazzi A parte il blitz Che non so Se serve A qualcosa Va bene Però voi Nuno gioca come vuole Attenzione Vediamo un po' Ok Qui non c'è niente Ricevo interferenze Qui niente Ricevo delle piccole interferenze Ragazzi Non ho capito Attenzione Sento rumori Saranno al piano di sopra Magari dove eravamo proprio noi Verda Ho trovato l'obiettivo a culo Mentre mi sono girato Che lì è davvero difficile la mappa ragazzi Però se la sappiamo giocare bene E' anche difficile per loro difendere Quindi direi di eliminare le telecamere Se ne vedo qualcuno Per esempio Lì Eliminiamo Mettiamo in sicurezza Vediamo Io salgo sul tetto Purtroppo non l'ho percata a nessuno Quindi adesso provo da un'altra parte Vediamo Ah certo L'obiettivo era qui ovviamente No 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 Eh vabbè No ma perché Allora quando potevo usare Feud per farli saltare Qua hanno sfondato pure Purtroppo Qua mi sembra che non posso piazzare Torniamo indietro ragazzi Facciamo un'altra cosa Attenzione Bam Ho preso Ho preso il maledetto Noo va bene va bene L'avevo notato all'ultimo Purtroppo mi ha fatto Ok dai Intanto la partita Non sta andando molto Molto male Devo dire Purtroppo Allora all'inizio L'avevo messo pure giusta Eh Le granate a grappolo Le avevo messe Giuste Nel punto giusto Devo dire E allora Direi a questo Di stare attento Ecco appunto Occhio alla destra Perché ora arrivo Eh va bene C'era quell'altro lì Io me la immaginavo Che era lì Infatti avrei visto Se si era entrato Avrei visto prima lì Eh va bene Eh va bene Eh va bene Dai Difendi Difendi Prendiamo di nuovo Il fucile a pompa Ragazzi Dato che poco fa Frost Questo È il nuovo specialista Ragazzi Che Per tutti Quelli che non hanno Acquistato prima il gioco Arriverà gratuitamente Il 9 Di febbraio Scusate Di febbraio E che comunque Sarà acquistabile Penso con i crediti Che comunque voi Guadagnate mentre giocate Però non ne sono sicuro Quindi non lo so Allora Vediamo un po' Difendiamo la stanza Mi piace questo Punto Più o meno Abbastanza Difficile Devo dire I nemici Di solito Vengono Da questo Lato Ecco Siccome tu Devi rompere le palle Grazie Ora la puoi rimettere Noi sediamo qui Almeno di sopra Gli nemici hanno trovato La bomba Ecco qua Così ragazzi Ci mettiamo belli Camperati qui All'inizio Le scale Le scale sono Qui Perfetto 3 2 1 Iniziamo a vedere Le telecamere Le telecamere Molto utili Ragazzi Secondo me Allora Lì c'è Capcom Che non so dove sta andando Ok Lì c'è uno E altri due Qua Uno sta andando sopra Altri due Lì stanno andando Dal mio lato Quindi entreranno Magari da Sotto Aspetta Eccoli Uno è là Sopra il tetto Va bene Uh Cioè io stavo per sparare a questo Che si è messo qui accanto a me Stupido Vediamo un po' Se entra qualcuno Che ragazzi qua Dobbiamo concentrarci un attimo Noi siamo qua sopra C'era uno sul Tetto Ok Minchia ragazzi L'ho visto all'ultimo Maledetto è andato Vediamo di qua ragazzi Subito Subito Che sta avvenendo da questo lato Che sta avvenendo da questo lato Se non erro Quattro contro cinque Tutta cosa ragazzi Tutta cosa Se questo si leverebbe Alle palle Ok Vediamo Vediamo Dove potremmo andare Ragazzi E qua Ne ho ucciso uno E va bene E va bene Purtroppo Ho beccato quello Con lo scudo E va bene Dai Purtroppo Purtroppo Ho beccato quello Con lo scudo Ragazzi E mi ha fatto fuori La fortuna mia è stata di beccare quello lì Che Era lì Fermo a guardare il drone Lui mi sa che non sa quello che fa Ah no È rimasto l'unico Purtroppo a difendere l'obiettivo Occhio Eh Non si capiva niente Proiettile a destra e a sinistra La tua squadra è stata terminata Il round 3 è perso Ecco Mi immaginavo che loro venivano da top Va bene Va bene E allora Match point Round 4 Stavolta attacchiamo Ci prendiamo di nuovo Fizz O come Caspiterina si chiama E il Blitz Che poco fa Mi ha fatto fuori Sledge Termite E sicuramente Ash Spero Questo qui mi sa che non sceglie mai Se prende sempre la recluta A sto punto Dato che Non sceglie mai Termite potrebbe essere Più o meno utile Però Avrei preferito Magari il nuovo operatore Ecco infatti il recluta Vabbè Fuse ragazzi Potrebbe essere davvero Veramente utile Perché se loro stanno Più o meno vicini Li posso eliminare Con le granate a grappolo Allora Vediamo un po' L'entrata Il clan Il clan avversario Il team avversario Non mi sembra Un team che Guarda le telecamere Comunque E vediamo un po' Cucina Non c'è nessuno Sentito spari Non capisco però da dove La banderia del cavolo Purtroppo ragazzi Non ho trovato ancora L'obiettivo Niente da fare Non abbiamo trovato L'obiettivo Purtroppo Purtroppo Non abbiamo trovato Ancora L'obiettivo Allora io direi di trovare Prima l'obiettivo Prima di fare Qualc'altra Cattata E di qua Io ero entrato E non c'era già nessuno Allora lì c'è la telecamera Sento spari Ma non capisco da dove Qui Piccolo cieco Ragazzi Qua non c'è niente Cioè Di qua dovrebbero esserci Le scale Che ho Preso poco fa Però Eh non ho visto nessuno Lì c'è un'altra telecamera Di qui siamo entrati noi Cioè non ho capito ancora Ah va bene Stanno sotto Stanno sotto E allora vediamo un po' Guardi alle sacchette Brutto questo pezzo ragazzi Perché io confio Oh da dietro Dai c'è ragazzi Loro entrano Loro entrano E praticamente Non è che puliscono la zona Vedono se c'è qualcuno No Loro se ne sbattono Vanno subito all'obiettivo Ora vi faccio vedere Che quello Li fa fuori tutti A uno a uno È matematico Ah già l'hanno ucciso Non è l'altro Che dire Purtroppo questa mappa Ecco Appunto Purtroppo questa mappa Questo pezzo Dove erano Dove erano gli avversari È brutto Perché l'entrata Da sopra Serebbe solo quella botola Che era lì esplosa Ed è lì Purtroppo Eh O mettete prima Le granate a grappolo Perché Solo Solo da lì le potete mettere In poche parole Va bene Due contro due Purtroppo uno È in fin di vita Ecco Fumogeno Maledizione No Stati lì Fermo Stai lì pure Fermo Ecco Sotto Sotto Madonna ragazzi Che mira che c'è questo Mamma mia Che mira che c'è questo Andiamo Questo qui non sa Cosa fare Anche io non saprei Cosa fare effettivamente In questa situazione Dato che Le uniche entrate Sono quelle Sono barricate Non ho capito Perché ha spaccato il muro Ma questo muore Per causa di questa botola Me lo sento Eccolo Eh lo sapevo io Rando 4 perso Purtroppo la mia squadra È stata eliminata Vabbè però comunque C'era quasi C'era quasi Ok La partita È finita Purtroppo abbiamo perso Ragazzi Però comunque è uscito Un bel gameplay Con questo è veramente tutto Devo dire Ci vediamo al prossimo video Vi prego di lasciare Un like Al mio canale Se vi è piaciuto il video Di condividilo Per far sì che il mio canale Cresca Con questo è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti